Per coloro che seguono assiduamente il gossip in generale, sanno bene di chi stiamo parlando e magari ne sono anche felici. Ma questa è una bella notizia infatti per Sofia Crisa Fulli, che è nuovamente fidanzata dopo la nascita del figlio Tiago. La ragazza sappiamo che ha sofferto tantissimo, avendo vissuto il primo periodo post-parto come mamma single. Sì, perché poi quando sta in tenere età non è che sia tutto facile, anzi, sei in qualche modo costretta a crescere più in fretta. A soli 18 anni si è trovata ad essere madre e poi la notizia della sua separazione dall'ex padre del piccolo, tra l'altro, aveva fatto scalpore. I fan avevano esternato tutto il loro dispiacere e mostrato vicinanza. Ma adesso è uscita fuori una news molto importante sulla sua vita, che non possiamo assolutamente perderci, ma non tutti l'hanno accolta in maniera favorevole. Prima di dirvi con chi Sofia Crisa Fulli si è fidanzata, come confermato da lei stessa su TikTok, vi ricordiamo come aveva annunciato la nascita del figlio. Lo scorso mese di agosto aveva scritto 30.08.2022. Alle 12.06 sei nato tu, la mia gioia più grande. Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me. Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Dunque, momento entusiasmante per Sofia Crisa Fulli, che si è messa alle spalle il brutto momento e si è nuovamente fidanzata. Questo favorirà ovviamente un lavoro più semplice della giovane TikToker, che potrà crescere il bambino con un preziosissimo supporto. Si era vociferato con forza che lei fosse impegnata sentimentalmente, ma certamente la notizia clamorosa sul suo partner ha fatto immediatamente il giro della rete. E non sono mancati anche alcuni commenti di alcuni odiatori social. Secondo quanto ha praticamente annunciato la stessa Sofia, è ritornata a comporre una coppia con Agostino Catanzariti, suo ex fidanzato e papà di Tiago. Later aveva commentato, immagina essere Sofia Crisa Fulli e rimetterti insieme a uno che ti ha lasciata sola per tutta la gravidanza. E lei ha prontamente replicato, ci siamo allontanati per il bene di tutti ed è stato meglio così. E adesso stiamo meglio di prima, ma voi parlate a caso, cosa ne volete sapere? I due ragazzi hanno ritrovato quindi la serenità perduta in passato. Originaria della Lombardia, Sofia Crisa Fulli è nata nel 2003. Con Agostino Catanzariti è nata la passione nell'estate del 2021 nella città di Riccione. Lei, oltre ad essere una famosa TikToker, ha anche pubblicato un libro che si chiama E adesso? Come un test di gravidanza ha cambiato la mia vita.